Sono molto importanti, è l'inizializzazione di una nuova stagione, si parte sempre dai test e qui ogni anno veniamo e ci sottoponiamo ai test di corsa, il Mognoni e poi un test per l'equilibrio e la prevenzione degli infortuni. Diciamo che questa è la strada che sta intraprendendo tutte le società di calcio, nonostante sia uno sport collettivo stiamo cercando di andare sempre più sulla preparazione sul personale. L'obiettivo è quello di preparare poi un programma di esercizi personalizzato sul singolo giocatore in maniera tale che possiamo andare a colmare quelle lacune, tra virgolette, di movimento che possono chiaramente predisporre a degli infortuni. Beh diciamo che le visite, i test, soprattutto qui all'ISO-KINETIC sono importantissimi, soprattutto quando devi iniziare una stagione molto lunga con tante partite. Ciao Iso-KINETIC, grazie per ogni anno che passiamo qui, è sempre un piacere. Ciao Iso-KINETIC, grazie per ogni anno che passiamo qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.